Ciao a tutti, sono Monica Galliero dell'EMPA sezione di Salerno e siamo qui sul lungomare all'altezza di piazza del marinaio, ma abbiamo coinvolto tutto il lungomare praticamente, con questa splendida manifestazione all'insegna della solidarietà e sensibilizzazione nei confronti degli animali. Ci sono associazioni animaliste del territorio e ci sono la scuola, la SIX, che è la scuola di cani salvataggio, nonché il sorriso di Mercato San Severino. Venite perché saremo tutta la giornata qui e vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.